Dopo la fine dell'ultima fase dell'Accademia Platonica, cioè verso il cento, il primo secolo avanti Cristo, abbiamo un risorgere dello scetticismo, in particolare Enesitemo di Cnosso che insegnò ad Alessandria e fu contemporaneo di Cicerone. Il nostro Enesitemo di Cnosso definisce dieci regole, queste dieci regole per attaccare qualsiasi dogma. Io definirei queste dieci regole come analisi critica delle credenze o analisi critica di ciò in cui crediamo per renderle più realistiche e verificarne l'esattezza. In realtà Enesitemo elaborò queste regole per giustificare la sospensione del giudizio, l'epochè. Ma vediamo quali sono e poi vi collegherò queste regole ad una tecnica molto contemporanea usata in psicologia. Le regole sono le seguenti. La prima regola è quella secondo la quale le stesse cose non producono le medesime rappresentazioni sensibili in conseguenza della differenza degli animali. Cioè una stessa cosa non viene vista allo stesso modo dai diversi animali. La diversità degli animali fa sì che la stessa cosa è percepita in maniera diversa. Questo anche implica che non possiamo dire con esattezza o con certezza che la nostra rappresentazione di una cosa è corretta rispetto alla rappresentazione che se ne fa un altro animale. La seconda regola è che esistono differenze tra gli uomini e di conseguenza gli uomini percepiscono per esempio un evento, un uomo percepisce questo evento in maniera piacevole e un altro individuo percepisce lo stesso evento in una maniera spiacevole. Di conseguenza c'è una diversità di percezione di eventi e oggetti. Allora uno si pone la domanda come vedrebbe la stessa situazione o lo stesso oggetto un'altra persona quindi punto di vista dell'altra persona differisce dal punto di vista personale. La terza regola è che i nostri cinque sensi vedono le cose diversamente cioè qualcosa che potrebbe apparire gradevole alla vista infatti ci sono cose che appaiono molto gradevoli alla vista ma se risultano estremamente sgradevoli per esempio al gusto allora riprendiamo cose che ci appaiono belle attraverso la vista quindi ci appaiono belle possono risultare spiacevoli al gusto o una sensazione tattile spiacevole può in realtà essere generata da un cibo che poi si rivela gradevole al gusto quindi i cinque sensi ci danno ci rappresentano le cose in maniera diversa e allora la domanda si pone in questo modo cioè la mia sensazione negativa rispetto all'udito è compensata da una sensazione positiva rispetto alla vista e così via quindi poi ci sono le circostanze non solo noi individui siamo diversi l'uno dall'altro ma lo stesso individuo o gli uomini sono in diverse circostanze si trovano in diverse circostanze possono essere malati possono essere vecchi, bambini e così via quindi lo stesso oggetto o lo stesso evento ci dà percezioni diverse a seconda della circostanza in cui noi ci troviamo oppure due individui in diverse circostanze vedono lo stesso oggetto percepiscono lo stesso evento in maniera diversa quindi diversità in base alle circostanze la quinta regola che possiamo usare per analizzare ancora criticamente gli oggetti, percezioni, eventi è quella della prospettiva cioè se noi guardiamo le cose da una certa distanza e poi cambiamo questa distanza e guardiamo le stesse cose la nostra idea di quelle cose cambia cioè la percezione sensoriale cambia quindi questo cambiamento di prospettiva deve essere tenuto conto quando si stabilisce della realtà delle percezioni della fondatezza di un'idea per esempio poi ci sono le mescolanze questa è la sesta regola la regola che riguarda le mescolanze il punto è che è quasi impossibile in natura perlomeno di percepire una cosa in maniera assolutamente isolata cioè pura noi percepiamo una cosa sempre in relazione ad altre cose insieme ad altre cose e quindi non abbiamo mai una sensazione pura di quella cosa di quell'evento di quell'oggetto e poi c'è la questione della quantità degli oggetti cioè la quantità da una più grande o una minore quantità ci fa percepire quell'oggetto in maniera diversa poi l'altro criterio l'altra regola sotto cui bisogna che bisogna prendere in considerazione nel stabilire la validità di una percezione o anche di un'idea o anche della realtà di quello che stiamo percependo è la relazione in cui questo oggetto questa idea sta con altri oggetti o con altre idee allora se consideriamo una bevanda calda e la mettiamo in relazione ad un'altra bevanda fredda cioè se beviamo la bevanda calda dopo aver bevuto una bevanda fredda quella bevanda ci sembrerà molto più calda poi c'è la nona che studia la frequenza delle sensazioni ovviamente la percezione cambia di una cosa cambia se noi la percepiamo quotidianamente o una volta sola nella vita quindi la frequenza ci dà il senso il tipo di percezione di idee caratterizza anche come vediamo le cose e l'ultima regola ci ricorda che le percezioni e le opinioni degli uomini variano a seconda dei luoghi e delle circostanze in riferimento ai costumi alle leggi e alle superstizioni eccetera quindi background culturale storico geografico come si vede queste dieci regole possono essere trasformate in domande ma le domande in cui possono essere trasformate in realtà possono andare a costituire e di fatto lo sono adesso una tecnica una tecnica psicologica per agire su come noi sulle nostre idee sulle idee pensieri che hanno una relazione immediata con le nostre emozioni quindi se io prendo sono o vivo delle emozioni che non che mi debilitano oppure che mi rendono la vita difficile oppure che mi fanno soffrire scopro le idee o l'idea o il pensiero o i pensieri o quelli più i pensieri dominanti che sono legati a questa emozione poi posso sottoporre sottoporre questo pensiero dominante ad un'analisi del tipo investigativo del senso che pongo le domande basate su quelle regole per chiarire la verità la realtà dell'idea che è a causa delle mie emozioni negative in psicologia c'è una diciamo teoria è una tecnica che si occupa di questo aspetto del pensiero legato alle emozioni e al comportamento che si chiama teoria terapia cognitiva e comportamentale e in cui si applicano queste regole di che ho elencato in precedenza cioè le regole scettiche stilate da Enesidemo di Knosso ma in sottoforma di domande cioè invece di dire invece di dire guarda che le cose le stesse cose non producono le medesime rappresentazioni sensibili in due individui diversi si dice come vedrebbe la stessa cosa una persona a te cara una persona che per te conta o un'altra persona ristacchiata oppure il punto di vista come definiresti come cambieresti il tuo pensiero se invece di vedere le cose a un metro ti mettessi a volo d'uccello cioè prendessi una distanza come ti apparirebbe quella stessa situazione quindi che tipo di pensieri diversi avresti e così via ognuna di queste regole trasformandola in domanda permette di ridimensionare il pensiero dominante che causa in genere un pensiero dominante negativo che causa un'emozione che noi non riusciamo a gestire le dieci regole dello scetticismo elaborate da Enesidemo di Knosso si possono trasformare in dieci domande che applicate al pensiero dominante lo rendono realistico oppure lo scardinano cioè se noi prendiamo la credenza come dogma e applichiamo queste regole a quella credenza la rendiamo razionale ma non la razionalizziamo la rendiamo razionale nel senso che la mettiamo sotto lo scrutinio della ragione ne valutiamo la portata realistica e di conseguenza possiamo ridurne l'effetto emotivo buona giornata